Per me è stata una fortissima emozione. Ha scelto di visitare il Sacrario di Marzabotto come primo gesto del suo incarico, il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti. Giunto da Brescia, dove ha prestato servizio per tre anni e dove ha affrontato la pandemia in una delle città più colpite dalla prima ondata del Covid, il nuovo rappresentante del governo a Bologna ha preso il posto di Francesca Ferrandino. Per Visconti la scelta di ricordare subito al suo arrivo i caduti di Marzabotto non è casuale. Sono figlio di un partigiano perché mio papà, ufficiale dei carabinieri, si trovò a Torino nell'epoca e ha combattuto da partigiano sulle Alpi, sulle montagne del Piemonte. Sono cresciuto quindi con il fermo convincimento che la libertà è il bene supremo. Nella sua visita a Marzabotto, alla presenza anche del sindaco Valentina Cuppi, il prefetto ha parlato a lungo con Ferruccio Laffi, uno dei sopravvissuti alla strage, che nel 1944 aveva 16 anni. I nazifascisti guidati dal comandante Walter Reder portarono a termine la peggiore serie di stragi di civili compiuta in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quasi 800 morti nelle varie frazioni dei comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno morirono soprattutto donne e bambini. Non era mai accaduto in quasi 80 anni che altri prefetti mettessero al primo posto questa tappa per iniziare il loro mandato a Bologna. Gli altri prefetti non sono mai mancati alle celebrazioni, però alla giornata di insediamento visitare il sacrario di Marzabotto e i caduti per noi è un grande onore.